Annalisa Loti, molto piacere. Mia madre ha deciso di chiamarmi Annalisa perché dice sempre che guarda che avere nome e cognome con la stessa iniziale porta fortuna, che ti credi, ma è tutto ancora da verificare. Sono nata a Bari, ho 45 anni e ho iniziato con testi scritti da me che ho portato sia a teatro che in televisione in programmi come Zelig e Colorado. Tra gli ultimi lavori più rilevanti che ho fatto, Sogno di una notte di mezz'estate per la regia di Massimilano Bruno dove sono la fata, tenerissima, e Maturi la serie per la regia di Rolando Ravello dove invece sono la professoressa Formighi, cattivissima. A volte penso che questa mia passione per la commedia viene da una frase che mi ripeteva sempre mia nonna, se non eri su felice qualche d'uno, non è stato più buona giornata. Ho anche una laurea e tutte le volte in cui penso, ma che l'ho presa a fa sta laurea, in realtà poi mi vengono in mente le parole di mia zia Pinetta che diceva sempre la vita è come la toilette, alla fine serve sempre un pezzo di carta. Faccio vedere i profili grazie mille di aver sentito fino a qui la mia presentazione, spero di conoscervi presto anch'io visto che forse ormai voi conoscete un po' me, buon lavoro!